Il mercato azionario asiatico chiude in ribasso mentre il petrolio sale sopra i 100 dollari al barile per la prima volta negli ultimi due anni. Il franco svizzero sale a record contro il dollaro e l'Oien si apprezza fino al massimo di due settimane la violenta rivolta in Libia a seconda della domanda di attivi più sicuri. Crolla il prezzo del grano e diminuisce quello del maes e della soia. La fiducia dei cittadini europei nelle prospettive dell'economia aumenta oltre le attese a febbraio. Collegamento internet da Milano, Matteo Cassiani del servizio gestioni di Banca Montepaschi Siena. Ciao Matteo e bentornato a Vloganza. Ciao Luciano, grazie a voi. Adesso per l'azionario potrebbe essere difficile rimbalzare almeno fino a quando gli investitori valuteranno il rischio che esce dall'incertezza in Medio Oriente e Nord Africa? Sì, la variabile geopolitica diventa decisamente prevalente e i mercati hanno gli occhi puntati sul Nord Africa. Ricordiamoci che per l'economia mondiale il Nord Africa e il Medio Oriente significa un barile di petrolio prodotto ogni tre, per cui sicuramente è qualcosa di preoccupante. Ciò nonostante una cosa importante che ci va di segnalare è che comunque sia arriviamo in questa situazione con i mercati azionari che sono su valutazioni, se vogliamo, corrette o quantomeno sicuramente non eccessive, anzi sicuramente a sconto rispetto alle medie storiche, con dei profitti che invece sono al record degli ultimi dieci anni. Un dettaglio che a molti probabilmente è sfuggito, nonostante il fatto che l'indice azionario abbia raddoppiato dai minimi del 2009, di marzo 2009, e quello non è sfuggito nessuno, è parlando del mercato americano, è che in realtà i profitti sono in livello assoluto sui livelli più elevati degli ultimi dieci anni, ben più elevati di quelli che erano prima del 2007. E che ci dice questo? Questo ci dice come è andato l'ultima reporting season negli Stati Uniti, praticamente ormai hanno riportato il 95% delle aziende americane e quello che ci dice è che gli utili sono saliti, hanno sorpreso la parte azzurra, sia però non solo per quanto riguarda gli utili rispetto alle attese degli analisti, ma addirittura sulla top line, cioè sui ricavi, sulle vendite. Significa che le aziende per la prima volta da otto trimestri in cui vengono riportati utili in aumento e soprattutto le stime degli analisti, in realtà hanno fatto questi utili grazie a un incremento dei ricavi e non solo e non più soltanto con cost cutting, riduzione dei costi e quindi efficientamento interno, oltre a quello sono arrivati anche i ricavi. Allora vediamo intanto le società dello Stato del Impulso 500, l'utile per azione relativo al quarto trimestre 2010, la torta si divide in alcune fette che appaiono abbastanza chiare, vedete dal lato di Matteo la fetta più grande che appunto evidenzia il numero di società, il 46% che hanno battuto le previsioni di utile per azione e di fatturato, mentre poi solamente quelli che hanno battuto le previsioni di utile per azione, solamente quelli che hanno battuto le previsioni di fatturato e coloro che invece non hanno battuto nessuna delle due. Sono utili sani Matteo? Sono numeri record in realtà. A parte i numeri inutili sono sani? Sì, in particolare quello che è interessante è che comunque i bilanci aziendali sono, dal punto di vista dello Stato patrimoniale, quindi dell'indebitamento netto, sono decisamente situazioni ben più positive rispetto a quelli del 2007. Giusto per fare un esempio su tutti, le società di tecnologia che storicamente sono state le società a maggior investimento, quindi a più alta necessità di finanziamenti per questi investimenti, oggi si trovano in una situazione addirittura, come si suol dire, di net cash, cioè addirittura hanno più cassa rispetto e più liquidità rispetto a quello che sono i loro indebitamenti. E questo come conseguenza che cosa ti fa pensare? E questo mi fa pensare che comunque sia, nonostante quello che sta accadendo in Nord Africa, i mercati effettivamente stanno rispondendo in maniera sì negativa, ma non eccessivamente negativa, perché stanno effettivamente ponderando che le valutazioni sono comunque interessanti e che l'utile che sta al di sotto del multiplo P è effettivamente un numero affidabile che ha dietro di sé una storia effettivamente scritta, importante. Bene, torniamo in ogni caso sulla cronaca della giornata, allora il greggio per consegna ad aprile a New York e precisamente al New York Mercantile Exchange sale del 5-4% circa, il punto è che arriva a 103 dollari e 41, mentre il Brent per la stessa consegna ad aprile ha raggiunto i 119,79 dollari a Londra, dunque addosso ai 120 dollari. Sì, questa è la notizia più negativa che viene fuori da quel che sta succedendo, è la cosa più preoccupante, perché tutto quello che ci siamo detti finora potrebbe essere messo in discussione qualora il prezzo del petrolio dovesse permanere su questi livelli o ulteriormente salisse. L'abbiamo visto anche sui mercati questa mattina, i mercati in Asia che più ne hanno risentito, soprattutto tra i mercati emergenti, sono l'India e il Giappone, che in realtà effettivamente sono, far da caso, i maggiori importatori di petrolio. Il messaggio che ricaviamo da quello che ci dicevamo è che le valutazioni sono comunque interessanti e quindi permettono di affrontare questa situazione senza particolare panico. Il permanere però di una situazione negativa in Nord Africa e potenzialmente nel resto del Medio Oriente potrebbe in realtà rappresentare un grosso punto di domanda e chiaramente implicare uno scenario alternativo più negativo. L'Arabia Saudita e anche altri paesi OPEC cercano di tranquillizzare il mercato dicendo che se anche le forniture dalla Libia dovessero subire, dovessero rallentare in ogni caso di sentire i contraccolpi di quello che sta accadendo, appunto l'Arabia Saudita e anche l'OPEC sono in grado di sostituire quella fornitura, non porterà mancanza sul mercato. Questa è una delle ultime notizie che ho potuto trovare. In termini di riserve di petrolio, il 20% di questi dati BP, statistiche di giugno 2010 le più giornate, sappiamo che BP tiene statistiche sul mercato energetico decisamente aggiornate, sono un po' un punto di riferimento per tutti gli analisti, il 19,7% delle riserve sono in Arabia Saudita. Il resto dell'OPEC è circa il 70% della punizione totale. Quello che l'OPEC può fare effettivamente è incrementare le quote dei paesi non interessati da questi problemi. In passato sappiamo che sul mantenimento della quota e sul non superamento dei limiti che i vari stati si erano dati, c'è stata un po' di tensione perché molti, tra virgolette, baravano producendo di più rispetto ai limiti che si erano autoimposti e avevano concordato con gli altri paesi produttori. Quindi spazio c'è. Approfittiamo di passare anche dal mercato valutario dove è chiara un'altra reazione degli investitori, la situazione appunto in Medio Oriente, in Libia si sta deteriorando, gli investitori vanno alla ricerca di investimenti più solidi con un rischio minore. Il franco raggiunge il record a 0,92 e 45 dollari, l'euro è a livello più alto del mese contro il dollaro, ma probabilmente il discorso dell'euro è già diverso. Si apprezza anche lo yen e causa appunto il calo delle esportature in Giappone, per quello prima abbiamo visto che la borsa di Tokyo al quarto giorno consecutivo di ripasso è fra i risultati peggiori della mattinata. Esatto. Fin quando permarranno le incertezze, due sono le conseguenze principali. Maggior volatilità sui mercati e ricerca di protezione. Questo sicuramente è un trend di breve termine da prendere in considerazione. Tra l'altro la maggior volatilità dei mercati che deriva anche dal fatto che in parte ce l'ottendevamo, per cui già l'ultima volta ci dicevamo di essere più cauti sui mercati azionari, dal fatto che si perveniva in realtà da periodi di volatilità molto bassi. La Banca Centrale Europea è sotto la cappa dei tassi adesso, sta arrivando a grandi passi. Le aspettative, tanto per tirarla corta, sono sì di tassi di interesse che adesso sono orientati a rialzo, ma probabilmente niente accadrà nei prossimi due o tre mesi. Il nostro servizio di analisi quantitativa e macroeconomica prevede che non vi saranno interventi prima del terzo trimestre, che potrebbe voler dire anche luglio in realtà, come balenato da Trichet in un suo recente paragone a quanto aveva fatto in un precedente luglio 2008. ma quello che comunque ci attendiamo è un aumento di 25 basis point, cioè significa praticamente eventualmente qualora ci fosse la necessità e la Banca Centrale volesse veramente concentrarsi su quello che è il suo mandato principale, che è la stabilità dei prezzi, vi è spazio per una normalizzazione dei tassi di interesse. È difficile parlare di rialzo di tassi di interesse, sono su livelli talmente bassi storicamente ai minimi che un eventuale aumento di 25 basis point rientra in un discorso di normalizzazione dei tassi di interesse e non... Sì, più che altro sarebbe un punto di svolta, i tassi di interesse adesso tornano a salire, questo è quanto direbbero. E magari l'altro lato interessante da considerare sarebbe che si allargherebbe la forchetta con i tassi americani, la Federal Reserve immaginiamo che non rialzi i tassi di interesse finché mantiene attivo il quantitative easing, sarebbe una contraddizione, mentre la Banca Centrale Europea sicuramente al momento almeno appare, dovrà rialzarli prima degli americani. Gli americani sono allo 0,25, 0,025 e in Europa sono all'1%, dunque con tutta probabilità ci sarà un punto percentuale di differenza tra i due e questo potrebbe magari avere un impatto anche sul cambio dell'euro. Sì, tanto è vero che proseguendo su questo discorso, pur se ci attendiamo in questa prima metà dell'anno ancora un mantenimento di un training range tra 1,25 e 1,35 e 1,40 del cambio il rischio per la seconda metà dell'anno, proprio per queste argomentazioni e che effettivamente ci sia un apprezzamento dell'euro anche sopra 1,40. L'aumento dei prezzi dell'energia causati dalle proteste che attraversano l'Africa e il Medio Oriente rallenterà la crescita e anche la domanda per il grano, questo è quanto sembrano pensare i traders sulle materie prime, il grano crolla del 10% e si ridimensionano notevolmente anche i prezzi della soia e del mais. Sì, ormai i grafici avevano delle forme di perbole, quando i grafici comunque hanno forme di perbole sono soggetti a forte volatilità, il trend di fondo comunque rimane quello di una maggior domanda strutturale per le materie prime agricole, chiaramente nelle ultime settimane vi era anche una componente di speculazione particolarmente importante soprattutto per quel che riguarda quello che è successo dal punto di vista degli agenti atmosferici nelle varie regioni e gli accadimenti poi nel Nord Africa. Questo comunque toglie un po' di preoccupazione e toglie un po' di carne al fuoco alle autorità monetarie, in particolare dei paesi emergenti e dell'Asia, dove effettivamente vi è un'inflazione core, cioè la componente non volatile che è in rialzo ma potenzialmente controllabile come un aumento dei tassi di interesse, mentre la parte più volatile dell'inflazione che è proprio quella che compone più del 50% del paniere nelle economie in via di sviluppo ed è composta da rate agricole in particolare e poi da combustibili, effettivamente almeno in una parte fuori al suo egregio, la parte dei prezzi agricoli permettono una riduzione delle pressioni in aumento di questa inflazione, di questa parte più volatile dell'inflazione. Ed infine la Germania sostiene la fiducia in Europa, un indice che misura la fiducia dei dirigenti d'azienda ma anche dei consumatori sale a 107,8 da 106,8 di gennaio, dunque sale a febbraio, lo dice la Commissione europea a Bruxelles ed è il livello più alto dall'agosto 2007, gli economisti avevano previsto una lettura a 106,8 invece 107,8, è la Germania, che è appunto il boom della Germania che sta spargendo fiducia in tutta la zona Euro. I prossimi appuntamenti elettorali in Irlanda, in Germania di nuovo e poi gli incontri previsti per marzo per definire poi nuovamente in modo definitivo gli schemi di salvataggio dei paesi periferici sicuramente saranno sotto l'attenzione dei mercati. Ciò nonostante il 70% del prodotto interno lordo dell'area Euro, cioè la Germania, nel 2010 è cresciuto del 4% e mostra segnali comunque forti, il che comunque significa che a livello core è difficile parlare per l'area Euro di recessione quando il 70% della sua economia è effettivamente forte. Matteo Cassiani, Banca Montepaschi Siena. Grazie Matteo, arrivederci. Grazie.